classificazioni funzionali a cui tutti gli atleti sia di interesse nazionale che di interesse internazionale devono essere sottoposti per poter accedere ad una competizione ora lo scopo delle classificazioni funzionali è quello di garantire ad un atleta di potersi confrontare con un avversario di pari livello in una competizione quindi quanto più acqua possibile storicamente le classificazioni si basavano prevalentemente sulla patologia quindi ad un atleta veniva attribuita una classe sulla base della diagnosi clinica ma poi con il progredire del movimento paralimpico e soprattutto grazie all'appoggio in termini di ricerca scientifica del comitato internazionale paralimpico si è passate da una classificazione di tipo medico a quella che è la classificazione funzionale questo che significa che si dà una maggiore importanza a quello che è l'impatto in termini negativi sulla performance di una determinata patologia o meglio del deficit funzionale derivante da una determinata patologia ora questo perché vi faccio un esempio un atleta con un'amputazione a livello dell'arto superiore sicuramente questo deficit funzionale avrà un impatto negativo in termini di performance maggiore se l'atleta pratica il nuoto piuttosto che se l'atleta pratica la corsa quindi per ogni disciplina sportiva noi abbiamo un differente sistema di classificazione funzionale proprio per chi è specifico del gesto tecnico globalmente come si procede per la classificazione funzionale bisogna dapprima definire la presenza di quello che viene definito impairment elegibile ossia deficit funzionale elegibile dettato dall'IPC in linea generale gli impairment elegibili per poter accedere a un sport paralimpico sono 10 8 di pertinenza neuromuscolare poi c'è il deficit intellettivo e il deficit visivo ma per quello che riguarda kayak e il va abbiamo solamente 3 impairment elegibili attualmente dettati dall'IPC che sono il deficit di forza, il deficit dell'escursione articolare e la mancanza di un arto ora una volta definita la presenza dell'imperment elegibile si passa alla valutazione dell'atleta la classificazione consta come sapete di due fasi una fase medico funzionale e l'altra fase tecnica in acqua su campo gara ora per quanto riguarda la valutazione medica funzionale viene effettuata appunto da operatori sanitari quali medici fisioterapisti o eventualmente kinesiologi e va a valutare attraverso specifici test la forza e l'articolarità degli arti inferiori quindi si parla dell'anca della caviglia e del ginocchio ora l'escursione articolare questo è molto importante all'interno della quale noi andiamo a fare la nostra valutazione è caratteristico della posizione quindi degli angoli delle articolazioni caratteristici dell'atleta in barca quindi noi abbiamo due tipi diversi di valutazione degli arti inferiori o meglio di range articolari che noi andiamo a valutare per il kayak e per il va proprio perché noi sappiamo che la posizione in barca è sicuramente diversa durante la valutazione degli arti inferiori si deve andare a definire quello che è il criterio minimo di elegibilità ad esempio nel kayak è il criterio minimo la perdita di almeno 4 punti a livello degli arti inferiori quindi definito l'impermente elegibile secondo l'EPC definiti criteri minimi di elegibilità si procede alla classificazione si va a valutare la forza e il controllo del tronco il punteggio ottenuto dalla classificazione medica funzionale va a sommarsi a quella che poi è la valutazione tecnica in barca il punteggio complessivo consente di attribuire una classe all'atleta all'interno della quale lui troverà degli avversari i quali anche se con patologia diversa hanno deficit funzionali e quindi diciamo così ripercussioni in termini di performance che sono confrontabili in modo appunto come dicevamo prima da garantire una competizione quanto più equa possibile vi occuperete poi in un prossimo seminario di classificazione on water quindi della classificazione tecnica con il responsabile dei tecnici con il responsabile dei classificatori tecnici Diego Doga grazie a tutti grazie a tutti